Bella ragazzi, sono Kingslave Corporation e benvenuti in questo nuovo video che non si parlerà di gameplay ma parlerà di una reaction Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli ora vedremo i trailer e vi ricordo di seguirmi su Instagram, su Youtube e su Twitch come Kingslave Corporation e niente, proseguiamo della reaction ti ho dato dieci anni per vivere la tua vita e dove ti ha portato hai camminato nella mia ombra ti ho addestrato per sopravvivere agli uomini più pericolosi del mondo figlio è ora di prendere il tuo posto al mio fianco non se ne parla non puoi sfuggire ho il tuo destino addirittura chi sei tu? oddio siamo proprio un bel team interessante vabbè signori che dire a me non è che mi interessa tanto sto film perché perché altro vabbè gli eroi cinesi non è che mi... è il primo eroe cinese della Marvel quindi vabbè c'è Wong però è il protagonista diciamo è Shang-Chi però non è che mi interessa tanto sto film io aspetto il 9 luglio che esca Black Widow perché mi interessa è a dicembre che esce Spider-Man No Way Home sto film pare che esce che l'hanno detto in un poster 3 settembre vediamo se mi sale l'hype se no niente primo film cinese della Marvel 4 fase 4 della Marvel niente abbiamo scoperto chi è il vero mandarino dopo 13 anni dal primo film di Iron Man sappiamo chi è finalmente e niente raga questa è la reaction spero che vi è piaciuta come al solito seguitemi su Instagram su YouTube e su Twitch come Kingslave Corporation e noi ci vediamo oggi poveriggio alle 2 e mezza con Infamous la live caricherò le prime due live dopodiché la reaction ciao ragazzi